Nelle ultime ore l'Associazione delle Banche Italiane, il Credito Cooperativo, la Regione Lombardia, attraverso la sua finanziaria FinLombarda e le parti sociali, hanno finalmente siglato il protocollo d'intesa sul Fondo di Garanzia per le Banche, che aderiranno o che hanno già aderito alla Convenzione Nazionale sulla cosiddetta Anticipazione Sociale. La firma è avvenuta in seno al Sottocomitato Ammortizzatori Sociali della stessa Regione. In buona sostanza il protocollo elimina le possibili remore delle banche ad aderire alla Convenzione Nazionale perché accolla l'eventuale rischio di mancata restituzione dell'anticipazione concessa ai lavoratori a un apposito fondo costituito da FinLombarda. Un fondo a garanzia appunto degli istituti di credito che hanno accettato di versare subito l'indenità ai lavoratori in cassa integrazione, senza cioè attendere i tempi sempre lunghi della burocrazia. Adesso il protocollo d'intesa arriva sul tavolo regionale dello sviluppo, aperto sempre a Palazzo Lombardia per la firma delle organizzazioni sottoscrittrici. Un ultimo passaggio che assieme ai necessari adempimenti formali dovrebbe rendere effettive le prestazioni del fondo entro la prossima settimana.